ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua andiamo bene, proprio bene ragazzi mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda, andiamo la privazione è una strozzetta paurosa, pieno, sincronizziamo gli orologi, come fate? le 10 e 30, 11 e un quarto, 10 e 20, le 10 e un quarto, le 10 e un quarto, facciamo occhio che è meglio, mortecci dentro il letto sta, babbo la mamma dentro il letto sta, e la mamma gli chiede se glielo dà, e la mamma gli chiede se glielo dà parla la mamma, la mamma, la mamma lì! parla la mamma, la mamma, lì! Sì, la pastella va tutto spiano con la bandierezza a mano perché c'è ancora il romano Siamo a Piazza di Spagna, potete notare gli enormi danni fatti dai ragazzi Tutte le scale di pinte giallorosse, tutto lo di nuovo Potete vedere il resto dei turisti Guarda, tutta di pinta di giallorio rosso, tutti li rimbrattati, guardate Lo scingio che hanno fatto questi ragazzi, i teppisti Grazie Grazie No No, no, no. E le coppiette se ne vanno via, quanto si è bella Roma quando piove. E le coppiette se ne vanno via, quanto si è bella Roma quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli. E le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Non c'è città che basti per noi, la tua gonna è Las Vegas, togli la poi. Diremo solo un ricordo che ho rimosso. Fammi fuori bam 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 bam, un twist e poi bam 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 bam, Motella d'ore bam bam bam, ragazzi fuori bam bam bam, un twist e poi bam bam bam, ci vogliamo bam bam bam, Motella d'ore bam bam bam, fammi fuori bam bam bam, oh sì bam 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 bam. .